salve a tutti oggi vi faccio un video solo per completezza del filmato della salita della discesa della rampa un po anche per rispondere ai vostri commenti ripeto non è facile stavolta ho cercato di fare le riprese con una persona che mi ha aiutato mio figlio e abbiamo cercato di farvi vedere come quando la macchina tende a salire sulla rampa anche a velocità diciamo costante io non tocco mai stessa cosa vale per la discesa presa in velocità abbastanza e poi seguiranno tutte le misure non sto più a mettervi quante sono guardatevele voi sia della parte davanti della parte di dietro della macchina e la parte diciamo laterale della macchina in più ho aggiunto due foto che sono una e la misura da sotto dove c'è il piano praticamente il finale delle batterie e poi abbiamo la misura proprio dietro della macchina dove c'è praticamente il baule dietro e ci sono quelle specie due di due cornette e lì è la parte più bassa dove potrebbe ancora toccare diciamo la macchina a me non ha mai toccato quindi era solo per farvi una per completezza secondo me con rampe di normale gestione la macchina sale tranquillamente con questo vi saluto grazie a tutti mettete un like se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale saluti amo avuto